Buongiorno a tutti, sono Martina De Casso e questo video messaggio è per tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia di premiazione del concorso letterario Bussi sul Tirino del 30 agosto 2014. Ve lo mando perché purtroppo per motivi di lontananza geografica non potrò essere con voi, però ci tenevo a farvi sapere che vi penso e a ringraziare l'Associazione Culturale Parla alla Persona e il Comune di Bussi sul Tirino per questa bella e piacevole iniziativa, nonché la giuria per aver scelto la mia città di polvere. A tutti voi buone scritture, buone letture e un grande in bocca al lupo per tutto. Un caro saluto dal Trentino, ciao!